Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prenotazione? Sei ritardato? E che... Oh, Mr. Crash! C'è forse qualche problema? Questo posto è diventato una cacata! Vorrebbe un cioccolatino, signora? Non voglio sentire un'altra parola su questa sciocchezza dell'anno 2000! Vuoi che infilo una valigia in una di queste? Banche che collassano! O aeroplani che cadono dal cielo! Può mettere il contenuto in diverse cassaforti o... Tutte queste? Ha sempre avuto problemi a fare popò sulla neve da quando era piccolo! Forza, Mr. Toby! Caca! Non abbiamo tutto il giorno! Stasera alle 8! Molte persone importanti ce ne ranno ai nostri tavoli! È una famosa star! Ha fatto centinaia di film! Sex Odyssey? Sperminator? Fate sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso e dalle orecchie! O mio Dio! Non toccherai quell'affare nemmeno con un bastone! Tanto a mezzanotte perderanno tutto! I computer di tutto il mondo si bloccheranno! Saremo tra gli uomini più ricchi del pianeta, si fidi? Qualcuno sa come attirare i pinguini! Non tocchi il pesce! Richiederà la più assoluta discrezione! Qualcosa di brutto? Rossi! Cari rossiani! Cari rossiani! Cari rossiani! Cari rossiani! Cari rossiani! Dovremmo occuparcene mentre ci saranno i fuochi d'artificio! Eccellente! Cari rossiani! Signore! Cari rossiani! Cari rossiani! choriani! Grazie a tutti.